Sì, probabilmente sto per sbilanciarmi, ma sono sicuro di quello che dico. Signori, loro sono il mio nuovo dolce del sud Italia preferito. E stiamo parlando delle Sise della Monaca. Un dolcetto che da quanto leggero risulta quasi impercettibile in bocca. Ripieno fino a scoppiare di crema diplomatica e finito con dello zucchero a velo. E l'unico difetto che hanno è che sei buono di mangiarti neanche 12 nell'arco di 10 secondi. Forse 8.